Eeeeeeeh Che è lo qui? Buon day! Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati in cameretta Ragazzi, da quanto tempo parliamo? Da quanto tempo è che non faccio video in cameretta? E oggi siamo qui per fare un video reazione Praticamente cosa è successo Mia mamma, non so se vi ricordate Non so se avete visto il video YouTube sta davvero funzionando male Ieri ho pubblicato un video e non ha mandato le notifiche a nessuno A nessuno Quindi vi consiglio, mi raccomando, attivate la campanella E seguitemi su Instagram Mi chiamo giuseppe-barbuto Vi lascio il nickname qua Fate un bello screen Così una volta che avete fatto lo screen Potete continuare a guardarmi il video E dopo vi ricordate di seguirmi Stavo dicendo? Ah sì, che non so se vi ricordate Ma mia mamma ha fatto un tatuaggio Il primo tatuaggio Mi ha mandato il video Dove praticamente lo mostra a mia nonna E quindi io ancora non l'ho visto Quindi volevo vederlo per la prima volta insieme a voi Quindi ora andiamo a guardare Con il mio telefonino La portata di mano Mi raccomando lasciate già un bel mi piace E commentate con hashtag Che hashtag ci inventiamo oggi? Nonna di Giuseppe In dialetto Quindi magari cercherò di mettervi sotto titolo E spero che non parli così tutto il tempo Mio, mia mamma ha attrice doc Cioè non si vede che la stanno riprendendo Mia nonna se ne accorta Mia nonna si accorta Che mia sorella la sta riprendendo Raga, mi fa scassare una grande Per far vedere una bella cosa Che sa Gli lo mostra Ma No, 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 no Non la caga Niente, mi ha già rinunciato Cioè, ha già rinunciato Che? Ti devo far vedere Oh, eccoci Che sa? Allora, ma avrà a generale? No Che do qui? No Lo sapeva già Qualcuno gliel'ha detto Fermo un attimo No, ma lo sapeva già Ma che tristezza Proviamo a vedere se aggiunge qualcosa Si riparte Non ci vede La fai mettere un occhio alla mia nonna Pensavo di fare una sorpresa Invece lo sapeva già Mia mamma è tristissima Pensavo di fare la sorpresa Si, la G E la Martina Martina e Giuseppe Perché urla? Si Ma come non ti piacciono i tatuaggi? Non mi piace Ma adesso è nascosto Si Adesso è nascosto Si, ma non faccio niente No Non puoi fare più Ma no Adesso devo fare un'altra Cabiglia No, veramente Ma mamma Ti portalo già Ti faccio una cabiglia con i fiori Faccio lo draccialetto Eh E non lo tieno qua Non lo tieno qua Non lo tieno qua Non lo tieno qua No, uno qua E dopo siccome che No, perché siccome che fare Non va bene Bisogna fare Sì, poi faccio una rosa Da vero? È 50 anni Ma Devo posteggiare? No Va bene? Posso? C'è una bella mangiata Dei fai Che posteggiare Questi chiesi Mi sembra una Dei cannoli Sto morendo Raga È bella ma basta Ma vedi Si muovono Si muove Si muove Mia nonna appena detto Un altro Fattelo sul sedere Raga sto morendo Spettacolo Anzi Spettacolo Hashtag Spettacolo Allora Raga sto morendo Dovrò mettervi Sottotitoli Praticamente Per tutto il video Perché mia nonna Parla solo in dialetto Spero Non ho mai messo Sottotitoli In un video Non so neanche Se sono capace Ci proverò Ci proverò Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate ragazzi Seguitemi su instagram Perché lì tutti i giorni Faccio story Vedete cosa faccio Annuncio degli eventi Faccio mille 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 cose E almeno non vi perdete I video Anche perché Adesso ne sto caricando parecchi E dovete vederveli tutti Comunque se siete arrivati Fino a questo punto Commentate Con hashtag Dialetto Della nonna Condividete questo video Con tutti i vostri contatti Whatsapp Con tutti Dovete farlo arrivare A tutti E poi mandatemi di screen Su instagram Seguirò tutti quelli lì Che mi manderanno lo screen Ciao a tutti Un bacione Grazie mille per tutto il supporto Che mi state dando Con tutti i video Che sto caricando Siete davvero forti Manca poco I 200.000 iscritti Invitate tutti i vostri amici A iscrivervi Iscrivetevi se non siete iscritti Dobbiamo arrivare al 200.000 Il più presto possibile 200.000 Scoprirò gli iscritti Perché sono nascosti Bella Ciao Ciao a tuttiise Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti